ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video e allora oggi vi mostro come funziona un led multicolore rgb come utilizzarlo questi ragazzi sono dei kit che ho acquistato per mostrarvi appunto il funzionamento e allora un led rgb non è altro che un led con tre colori luci integrati nello stesso diciamo corpo a il rosso e il verde e anche il blu i led rgb possono fare tutte le sfumature colore che vuoi può fare appunto il rosso i colori principali rosso verde e blu e poi può fare anche le sfumature che riassunte sono in questo telecomando giallo rosa azzurro celeste arancione e poi tutte le varie diciamo gradazioni può in più fare effetti luce strobo e cambiare diciamo il colore in maniera lenta e costante può fare l'ha l'effetto cromo terapia eccetera eccetera ma un led rgb come funziona e allora funziona con quattro pin 1 2 3 4 un pin che questo qui è il pin comune cioè tutti i tre pin fanno comune a questo e poi hanno i positivi positivo positivo singoli cioè tu da questi tre pin puoi controllare i vari colori per esempio qui c'è il rosso qui c'è il blu e qui c'è il verde andando a mettere un polo per esempio negativo qui che il negativo comune è un positivo qui tu accendi il rosso per esempio qui puoi accendere l'altro qui puoi accendere l'altro e alternando diciamo l'alimentazione a questi pin e vai a fare i cambiamenti di colore però ovviamente tutto viene fatto in maniera automatica da queste schede questa è una scheda driver con sensore infrarosso grazie al telecomando puoi andare tramite questa a gestire i vari colori luce in più integrato anche gli effetti tutto dentro questi chip ragazzi chip a 8 pin piccolissimi questi sono i transistor che vanno a pilotare passo passo i vari colori luce in più la perché mi piace questo set sai perché perché può essere utilizzato sia in appartamento con questi questo è un trasformatore eccolo qui questo di trasforma guarda quanto è piccolo la 220 da qui in corrente continua questo lo cabli lo colleghi lo saldi alla scheda e tu puoi andare a realizzare una lampada per esempio con la presa 220 o in alternativa può anche funzionare con questo questo è un 12 volt qui va il 12 volt per esempio della moto dell'auto eccetera una batteria e qui a i due voli sempre che mai a saldare sulla schedina e ti permette di utilizzare il led di potenza che questo ragazzi è un 3 watt rgb con il telecomando ma poi se lo scatolino anche altri telecomandi perché ovviamente i kit sono molti o un altro di questo più altri power led che sono questi qui niente ragazzi l'utilizzo è semplicissimo basta saldare sia il led che l'alimentazione che sia alternata o che sia continua e il sistema è diciamo pronto a partire io con questa ci ho fatto da delle lampade ci ho fatto tante cose molto molto carine anche perché sono piccoli come vedi le dimensioni sono piccolissime se tu riesci a inglobare tutto dentro un contenitorino guarda qui cioè anche se utilizzi questo 220 che ovviamente deve andarlo a nascondere deve andarlo a isolare bene perché qui ragazzi c'è la 220 devi andare a fare diciamo anche con una stampante 3d un box in plastica piccolino un led lo metti sopra e ragazzi hai creato una lampada cambia colore per questo video è tutto iscriviti al canale mi raccomando è un like se il video ti è piaciuto e iscriviti anche al gruppo telegram fox tech best shopping offerte promozioni tutti i giorni ciao ragazzi al prossimo video